Lo definisce un momento storico per la sua città che alle ultime elezioni amministrative ha scelto di cambiare rotta rispetto al passato, dando fiducia a persone nuove che nulla hanno a che fare con la vecchia politica. La responsabilità di guidare il primo governo 5 Stelle della provincia BAT si fa sentire, ma per il neosindaco di Canusa di Puglia Roberto Morra è ancora più grande la voglia di iniziare questa consigliatura con il piglio giusto. Siamo la prima amministrazione 5 Stelle della provincia. È un'emozione fortissima perché per la prima volta delle persone, 15 consiglieri comunali, entrano senza nessuna passata esperienza politica e senza nessuna appartenenza a un partito tradizionale vero e proprio. Penso che questa sia una grandissima novità, una giornata storica, oso dire. La priorità del nuovo corso targato 5 Stelle si chiama bilancio. Il sindaco Morra è già al lavoro per mettere in sicurezza i conti pubblici. Noi in questi giorni siamo occupati con l'equilibrio di bilancio. È un passaggio fondamentale per un'amministrazione. Dobbiamo rendere le previsioni aderenti a quelle che sono le spese, a quelle che sono state le spese di quest'anno. Quindi abbiamo bisogno di rendere aderente il bilancio di previsione a quelle che sono le reali situazioni. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento. Abbiamo qualche difficoltà, però ce la faremo. Un'opposizione dura e senza sconti è quella che promette nei prossimi anni il consigliere comunale e regionale Francesco Ventola. Se ci sarà la possibilità di fare gli interessi della nostra comunità, ha detto l'esponente di Direzione Italia, non ci sottrarremo dalle nostre responsabilità. Faremo un'opposizione dura e senza prese in giro. È inutile dire opposizioni costruttive, collaborative, perché non servono a nulla. Opposizione è il ruolo che la città ci ha voluto dare, seppur con pochissimi voti di differenza, ed è quello che faremo. Pretenderemo che il programma elettorale, quando ungui dovesse emergere, che ci sia un programma elettorale del Movimento 5 Stelle, sia eseguito. Il nostro ruolo è proprio quello di fare in modo che quelle che sono state le loro dichiarazioni in merito all'onestà e alla trasparenza possano trovare ospitalità in questo consiglio. Più morbida la posizione di Sabino Silvestri, principale avversario del sindaco Morra all'ultima competizione elettorale. Aspettiamo di conoscere il programma dei 5 Stelle, dice, prima di iniziare un'opposizione leale e costruttiva. Aspettiamo le linee programmatiche del sindaco, poi cercheremo di conoscere quali sono i loro programmi, perché ti devo essere sincero, fino a ora non li abbiamo ancora capiti. E poi, sulla base di quelli che saranno i programmi, se saranno delle cose che riterremo valide per la città e per i cittadini, per lo sviluppo della nostra città, certamente faremo un'opposizione costruttiva, indubbiamente. Certo, la figura dell'opposizione è sempre una figura che tende al controllo, alla verifica degli atti, eccetera. Ci auguriamo, insomma, che si possa lavorare con serenità per il bene, soprattutto, alla città di Canossa. Spera in un'apertura dell'amministrazione alle proposte delle minoranze l'ex candidato sindaco Antonio Imbrici, ancora deluso per il risultato elettorale conseguito dal centro-sinistra alle ultime elezioni comunali. Avrei voluto vincere le elezioni e quindi governare questo paese. Speriamo che l'amministrazione possa operare bene, ho l'impressione che non sia già così. Sembra che abbia una certa apertura ai nostri confronti, nella confronto della sinistra, speriamo che sia vero.